Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 14.30 di Calabria News 24 in forma. I cittadini di Rizziconi in provincia di Reggio Calabria per la terza volta consecutiva subiscono lo scioglimento dell'amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose. Sentiamo il servizio di Graziano Tomarchio. Sciolto nuovamente per mafia il comune di Rizziconi guidato fino a pochi giorni fa dal sindaco Giuseppe Di Giorgio. Per la terza volta il lavoro svolto dalla Commissione d'Accesso inviata dal prefetto di Reggio Calabria attraverso l'analisi di delibere, atti e provvedimenti dell'attuale amministrazione ha portato il comune allo scioglimento per infiltrazione dell'andrangheta all'interno della realtà amministrativa comunale. Uno degli ultimi provvedimenti del prefetto di Reggio Calabria Claudio Sanmartino prima del suo trasferimento a Palermo è stato proprio l'invio al ministro dell'interno Angelino Alfano della relazione conclusiva sull'esito degli accertamenti compiuti al comune di Rizziconi dalla Commissione di Accesso agli atti. La commissione, che si era insediata lo scorso 28 dicembre e che in questi mesi ha esaminato punto su punto tutta l'attività dell'amministrazione comunale, è arrivata ad una conclusione univoco e che inciderà non poco nella vita sociale, civile ed economica dei cittadini di Rizziconi. In passato gli organi elettivi dell'ente sono stati sciolti ben due volte per infiltrazioni mafiose. Da sempre Rizziconi è il regno della locale cosca dei Crea che nonostante duri colpi inflitti dalla DDA Regina, forti di consolidate alleanze con altre consorterie mafiose, continua a dettare leggi nelle dinamiche sociopolitiche e criminali della cittadina della Piana di Gioia Tauro. Nella tarda serata di ieri gli agenti del commissariato di polizia di Rossano hanno tratto in arresto Domenico Viola di 29 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane nella cittadina Ionica sono stati rinvenuti un barattolo di plastica contenente circa 3 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana ed un contenitore di vetro nel cui interno erano custoditi 6 involucri di cellofan contenenti circa 9 grammi della stessa sostanza pronti per lo spaccio. E ora parliamo di inquinamento ambientale. Siamo nel territorio del Savuto dove sono stati sequestrati molteplici depuratori. Il servizio è di Dario Rondinella. Il Corpo Forestale dello Stato ha posto sotto sequestro 9 impianti di depurazione deferito all'autorità giudiziaria a 14 persone. L'attività ha riguardato lo stato di inquinamento del fiume Savuto. L'operazione è stata condotta dalla NIPAF, il nucleo investigativo del Corpo Forestale dello Stato con il supporto della Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e diversi comandi di stazione. Ed è stata coordinata dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Cosenza Mario Spagnolo e dal procuratore aggiunto Marisa Manzini. E i provvedimenti di sequestro sono stati trasmessi al pubblico ministero di turno e al dottor Giuseppe Cozzolino e riguardano i depuratori che scaricano nel fiume che ricadono nei comuni di Carpanzano, Ascigliano, Santo Stefano di Rogliano e Parenti. In quest'ultimo comune sono sei gli impianti oggetto di sequestro. Le indagini condotte in questi mesi e gli accertamenti preliminari su tutti gli impianti hanno portato a contestare agli indagati, sindaci e tecnici comunali, i reati di gestione illecita di rifiuti, scarico di acque, refluene sul suolo, danneggiamento e molestie. Oltre al mancato funzionamento, le indagini e i controlli hanno accertato diverse irregolarità, come la presenza di alcuni impianti di bypass che consentivano lo scarico nel fiume dei reflui non sottoposti al dovuto ciclo depurativo. L'operazione ha visto impiegati 40 uomini e 9 pattuglie del comando provinciale di Cosenza. Nei prossimi giorni, con l'ausilio dei tecnici dell'ARPACAL, continueranno le verifiche e le indagini sullo stato del fiume Savuto al fine di verificare lo stato di inquinamento dello stesso e dei suoi affluenti. Gli stranieri regolarmente residenti in Calabria fino all'inizio del gennaio 2016 sono circa 97.000 e rappresentano il 4,9% dell'intera popolazione residente. Tra il 2014 e il 2015 il numero è aumentato del 6,1% con un incremento superiore alla media nazionale, che pare allo 0,2%. E quanto emerge dal dossier statistico Immigrazione per l'anno 2015 a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, che analizza il fenomeno immigratorio in Italia e che è stato presentato in prefettura a Cadanzaro. La regione nel 2015 ha ospitato 96.889 stranieri, mentre nel 2014 il numero era di poco superiore a 91.000. Un aumento che può essere imputato secondo il rapporto a due componenti, il tasso di crescita naturale, pari a 9,6 per mille, e il tasso migratorio con l'estero, pari a 82,8 per mille. Gli stranieri residenti in Calabria sono soprattutto concentrati nelle province di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro. Seguono con numeri nettamente inferiori Crotone e Vibo Valencia. L'incidenza delle donne sul totale della popolazione straniera residente è pari al 51,4 per cento. In particolare si registra una rilevante presenza femminile in provincia di Cosenza e Vibo Valencia. I bambini di un'età compresa tra 0 e 14 anni invece rappresentano il 14,8 per cento della popolazione straniera e dal 2006 al 2015 sono aumentati in termini assoluti di 9.720 unità. Per quanto concerne l'età degli stranieri, il è evidenzia come il 70 per cento dei residenti abbia un'età inferiore ai 44 anni. Gli ultra 65 anni stranieri, all'incirca 2.500, rappresentano una quota di gran lunga minoritaria, 2,6 per cento. Gli stranieri residenti in Calabria sono prevalentemente europei provenienti dalla Romania, che con oltre 33.000 residenti è la nazione più rappresentata. Solo dopo ci sono Africa, il Marocco, lo stato principale di provenienza con oltre 14.000 residenti è Asia, circa 4.300 indiani. Tra tutti la maggior parte professa della religione cristiana e solo il 28 per cento è di religione musulmana. Per quanto concerne il mondo del lavoro, nel corso del 2015 sono stati assunti 35.912 lavoratori immigrati. Rispetto all'anno precedente, l'incremento è pari a circa 1.300 unità. Le assunzioni hanno interessato soprattutto gli uomini e hanno riguardato in particolare il settore dei servizi, seguito dall'agricoltura e dall'industria. Il dossier, infine, analizza anche il dato dei calabresi che hanno lasciato la loro terra per emigrare. Secondo l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, infatti, i cittadini della Calabria registrati nel 2015 sono 393.118, più 10.986 rispetto al 2014. Le principali aree continentali di destinazione sono Europa, dove spicca la Germania, ed America, in cui l'Argentina è il principale paese di arrivo. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta, ai nostri microfoni, parla dell'approvazione della proposta sul ruolo delle società di mutuo soccorso. L'intervista è di Fabrizia Arcuri. Le società di mutuo soccorso sono un complesso di istituzioni a base associativa, regolamentate dal principio dell'aiuto scambievole e delle prestazioni reciproche. Istituite con la legge del 15 aprile 1886, sono diventate nel tempo di fondamentale importanza nel contesto sociale del Paese. Con la proposta di legge e riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria, anche la nostra regione ne riconosce il valore e si pone l'obiettivo di incentivare tali formi di assistenza e volontariato. La Calabria su questo aveva trascurato un po' il riconoscimento di queste società. Una legge che ho proposto in consiglio regionale è stata approvata in tempi tra l'altro celeri, nella quale ovviamente c'è il riconoscimento del valore sociale delle società di mutuo soccorso in una terra che è depressa sul piano economico e che ovviamente può dare slangio alle fasce deboli. Uno strumento di funzione sociale importantissima, soprattutto nell'attuale contesto economico, in cui si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli e si assiste ad un ridimensionamento dei servizi alla persona e che vede la Calabria primeggiare con il circa 29% secondo gli ultimi dati Istat come la regione più povera d'Italia, ma che dall'altra parte si attesta su valori più bassi come spesa destinata all'assistenza sociale. C'è dietro questa legge ovviamente una formazione, una cultura, che quella è la cultura della sensibilità di chi resta indietro. Il governatore della Calabria l'ha subito accolta e il consiglio regionale l'ha approvato. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, sollecita la Sorical per il ripristino immediato dei guasti nelle aree di loro competenza. I disservizi sulla fornitura idrica che da qualche giorno in alcune zone stanno vivendo i cosentini sono adebitabili in parte a negligenze altrui e in parte a carenze di sorgenze. È la precisazione dell'amministrazione comunale di Cosenza in merito ad uno degli annosi problemi che affligge Cosenza in merito alla mancanza di acqua che viene registrata in diverse abitazioni. Nonostante il fatto, prosegue la nota, che da quando si è insediato e il sindaco Mario Occhiuto, l'esecutivo da lui guidato abbia provveduto a pagare i copiosi debiti del passato, la fornitura idrica continua a essere scarsa a causa di problemi tecnici e di interventi mancanti da chi ne ha competenze. Sorical, continuano da Palazzo dei Bruzzi, per l'ennesima volta ha informato l'amministrazione comunale di Cosenza che la riduzione della fornitura è dovuta alla carenza di acqua dalle sorgenti oltre che da altri disservizi e guasti continui sulla rete di adduzione. Pertanto l'amministrazione Bruzia chiederà proprio a Sorical di effettuare i lavori di sua pertinenza nelle aree critiche. Dal municipio si precisa ancora che al fine di garantire un diritto primario a tutti i cittadini si privilegierà sempre il dialogo con coloro che detengono le funzioni gestionali di questo settore in modo da migliorare i servizi essenziali. È impensabile, conclude infine la nota, che i cosentini debbano pagare le inefficienze di chi dovrebbe assicurare una manutenzione ordinaria e straordinaria continua. A Sorical infatti si richiede un confronto aperto allo scopo di poter superare problemi che vanno oltre le competenze comunali senza polemiche inutili e soprattutto senza perder più tempo nell'effettuazione dei lavori necessari ad assicurare autosufficienza idrica ai cittadini di Cosenza. Arriva anche a Bagnara Calabra l'iniziativa Io leggo perché. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Io leggo perché è un'iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori fondata sulla passione dei lettori di ogni età ed estrazione. Dopo il successo del 2015 che ha visto la mobilitazione di migliaia di persone e la consegna di 240.000 libri in tutta Italia, nel 2016 Io leggo perché cambia veste per diventare una grande raccolta della durata di nove giorni a sostegno delle biblioteche scolastiche. Nelle librerie aderenti fino al 30 di ottobre sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole dei tre ordinamenti, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Non solo, gli editori raddoppieranno i libri acquistati dagli italiani mettendo a disposizione degli istituti un numero pari di volumi che verrà ripartito in ugual misura tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta. I messaggeri di Io leggo perché anche quest'anno sono il cuore pulsante dell'iniziativa. Lettori, studenti, appassionati, insegnanti, genitori, nonni, librai, bibliotecari e tutte quelle persone che vogliono far parte di un grande progetto di ingaggio sociale e di promozione della lettura hanno la possibilità di diffondere il loro straordinario e appassionante amore per i libri. Anche a Bagnaracalabra le due librerie cittadine hanno aderito all'iniziativa. Io leggo perché è l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione e dagli editori italiani. Promuove la lettura nelle scuole e l'aiuto per le biblioteche scolastiche. Dal 22 al 30 di ottobre nelle librerie, in particolare nel nostro paese, possono venire i bambini, sono invitati i bambini, i genitori a donare un libro per la biblioteca scolastica. La Dea Bendata abbaccia Vibo Valencia, vinti ben 163 milioni di euro grazie al 6 del Super Enalotto. 3, 12, 23, 71, 76, 83. Sono questi i numeri che un fortunato giocatore ha scelto di giocare ieri pomeriggio nella ricevitoria dei fratelli Lobianco in Via Dante e Lighieri a Vibo Valencia. Quegli stessi numeri che a fronte di una giocata di 3 euro gli hanno fatto vincere un jackpot da 163 milioni e 538 mila 706 euro. Il secondo in assoluto dopo la vincita rate cord del 2010 a Catania. Però quella volta era stato un sistema che aveva permesso ad un certo numero di vincitori di dividersi la vincita. Questa volta si tratta di una sola persona a cui la Dea Bendata ha voluto stravolgere la vita. Felicissimi i titolari della ricevitoria che stanno festeggiando da quando hanno appreso la notizia. Quando avete saputo che un vostro fortunato cliente ha vinto una cifra così alta? Io mi ritrovavo a casa, stavamo preparando la cena e abbiamo ricevuto parecchie telefonate. Una prima parte di mia figlia ma io ero incredulo di come prendi in giro. Ho aspettato la seconda, la terza, finché poi a un certo punto dico, ora sarà una cosa vera. e siamo usciti di casa con mia moglie e siamo venuti in tabaccheria. In tabaccheria abbiamo visto movimento da parte di tutti i clienti. In quel momento ho cominciato a prendere realtà della situazione. Dico sì, allora è vero, c'è stato un fortunato che ha vinto il superenalotto. Ma che emozioni si prova a saper di aver regalato un po' di felicità a una persona? Vabbè, ma per questo credo che non ci siano parole. La felicità è immensa. Di fatti questa notte non ho dormito, ecco, in poche parole. Io immagino chi ha vinto cosa ha potuto passare, poverino. Che devo pure chiamarlo poverino a sto punto. Non si è ancora presentato nessuno a ringraziarvi? No, no, no. Ancora no. Ma voi pensate che si faccia vivo in qualche modo? Penso dovrebbe ricordarsi anche di noi, dai. Che cosa vorrebbe dire al fortunato, alla fortunata vincitrice? Al fortunato voglio dire che abbia molta calma e sappia gestire bene l'importo, che è abbastanza elevato, diciamo. E gli faccio tanti auguri. Io gli faccio tanti auguri. Siamo molto contenti come famiglia, insomma, perché comunque è una vincita che rimane, speriamo, nella popolazione del Vibonese. Quindi ci auguriamo che parte di questi soldi possono essere immessi almeno nel nostro mercato, in modo tale da dare anche un po' di sollievo alla popolazione. e comunque niente, speriamo che queste vincite continuino ad esserci, visto che la popolazione ne ha forte bisogno. Da oggi in poi ci impegneremo un po' tutti a cercare di elargire ancora ulteriori vincite per la popolazione. Bene, rientriamo in studio dove ci ha raggiunto il consigliere regionale Franco Sergio. Benvenuto. Buongiorno, ben trovato. Allora, di cosa parliamo? Parliamo della prima commissione. Lei fa parte di questa prima commissione. Ci faccio brevemente un resoconto dell'attività di questi due anni. Io sono il presidente della prima commissione affari istituzionali della regione di Calabria e devo dire che ho lavorato abbastanza, nel senso che tutto ciò che è arrivato di proposte, di legge, sia dell'aggiunta sia di iniziative di tanti consiglieri, sono state vase. Tant'è che non ho giacenze nella commissione, anche se qualche testata giornalistica, come ci ha dato le pagelle, misurando la produttività del lavoro di una commissione dal numero delle sedute. Ma il numero delle sedute non significano, perché ci sono alcune commissioni, tipo quella del Belagio, dove arrivano tutte le proposte di legge per la ratifica sulla compatibilità finanziaria e quindi sono più pareri molto deliberativi piuttosto che andare nel merito di una legge, discutere, ordinarla e quindi poi portarla. Noi abbiamo avuto tantissime proposte, la prima fra tutte quella sul riordono delle autonomie locali che richiamava la legge del Rio nel 2014 ed è una legge importante perché oltre al trasferimento delle funzioni e di alcune funzioni dalle province alla regione, ha sancito l'istituzione della città metropolitana, ha alcune proposte di fusione di comuni, vedi quella della fascia della Presila, il cosiddetto comune nuovo che dovrà sorge dalla fusione di Pedagio, Serra Pedagio, Spezzano e Casole Bruzio che prenderà il nome di Villa Bruzio. Quindi è una commissione ovviamente molto attiva e una questione a cui le tiene molto e sicuramente riguarda la proposta di legge sulla dieta mediterranea. Sì, questa è una delle proposte sulle quali abbiamo lavorato molto anche come gruppo Oliverio Presidente col collega greco, l'abbiamo presentata persino all'Expo a Milano perché il problema dell'alimentazione, del cibo sano, di una qualità di vita migliore è un tema di grande attualità. Questo tema va visto non solo per quanto attiene allo sviluppo del nostro territorio per la coltivazione di prodotti di qualità, certificati che quindi vadano a competere su un mercato globale e internazionale, ma la dieta mediterranea che ha le radici proprio in Calabria, gli studi fatti da Angel Kiss a Nicotera con il 70 County Study tanti anni fa e quindi da lì doveva partire. Purtroppo una proposta di legge nazionale lo colloca, come dirà Pollica, dove lui è andato a vivere dopo ma le radici di una dieta mediterranea si stavano proprio nel recupero di una longevità di vita che era stata sperimentata a Nicotera. Certo, infatti, partito proprio da Nicotera, infatti come ha sottolineato lei. Soprattutto tengo a dire questo, che noi pensiamo alla dieta mediterranea soprattutto come una prevenzione alla salute considerando che ci sono alcune patologie cronicizzate che nel prossimo futuro avranno una esponenziale diffusione come il diabete, come le malattie infantili, come le malattie delle ipertensive e tante altre che sono praticamente curabili soprattutto con un'ottima prevenzione. Con una buona alimentazione sicuramente la dieta mediterranea, l'alimentazione dei nostri prodotti è quella sicuramente più sana, ma non lo diciamo noi, ma è proprio sperimentato. Grazie in bocca al lupo per il vostro lavoro, grazie al consigliere Franco Sergio e noi ci vediamo al prossimo blocco di informazione sempre qui su Calabria News 24. Grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti.